Benvenuto Don Rosario Proviamo a dirti in poche parole quelli che sono i nostri propositi di bene Le nostre intenzioni più belle nell'offriti, il nostro benvenuto Siamo nella stagione dei sogni, dove a volte sono più i sogni infranti che quelli realizzati Dove sogniamo un futuro bello, ma anche un presente fatto di gioia Di amicizie significative, di innamoramenti teneri Dall'alto della tua statura ci vi incontro in un tempo dove voliamo alto Dove Dio ci chiama a dare il meglio di noi al servizio della Chiesa Siamo pronti a condividere con te questo cammino Noi cercheremo in te una persona che ci indichi dove è Gesù nella nostra vita Dove sei la strada della felicità Cercheremo insieme di disegnare percorsi nuovi di bontà Mettendo a disposizione della nostra comunità le nostre energie migliori È il tempo della generosità, dove proviamo a vivere la parrocchia come lo spazio in cui ci sentiamo buoni E esprimere quanto di più bello Dio ha voluto darci Non vogliamo affacciarci dal balcone della storia per guardare la nostra vita scorrere in vano Siamo pronti a lasciarci guidare per vivere la nostra vita da protagonisti Ti chiediamo di esserci Ti chiediamo di tenerci nelle tue preghiere Di donarci il tempo che il Signore ti considera di vivere con noi Sarà che abbiamo sempre visto in te l'immagine di una chiesa più grande della nostra comunità Ma immaginiamo per noi che potremo puntare in alto come il nostro pastore Divenendo insieme il segno della presenza di Gesù nel mondo Impareremo a volerci bene o almeno ci impegneremo a farlo sotto il manto di Santa Maria del Popolo